Ciao a tutti ragazzi, siamo Rebby e Molly E buone feste a tutti Anche se le feste stanno finendo, oggi faremo un video incredibile Sì ragazzi, perché oggi faremo il gioco se rotola fino al premio lo vinci di Natale E come tutti sappiamo Molly vincerà tutti i premi perché la Rebby non sa giocare a questo gioco Assolutamente, perché la Rebby adora il Natale e quindi il suo spirito natalissimo farà sì che vincerà tutti i premi di Natale Ok, vediamo se vincerai, adesso vediamo tutti i premi Non vedo l'ora Allora, primo premio, beh però io direi che come primo premio questa volta è abbastanza ricco Perché abbiamo i cioccolatini, abbiamo la cioccolata e abbiamo anche, wow, una calza Beh no, non è la calza della Befana perché la Befana deve ancora arrivare Però un sacchettino della Kinder, wow che buono Poi abbiamo, oh il torrone Buono il torrone I pop it di Natale Belli, questi li voglio vincere tutti No aspetta, 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 aspetta Quindi se tu finisci qui tutti i tuoi pop it saranno i tuoi? Certo, se finisco qua con la carta igienica tutti i pop it saranno i miei Ma tutti? Cioè a me non rimarrà neanche un pop it di Natale? Eh no, puoi vincerli sempre te Ma io come faccio a vincere che con quella carta non arrivo neanche il primo premio? Guarda Rebici, ci sono un sacco di premi belli C'è, oh mamma mia il Pandoro cioccolatoso No, buonissimo Poi c'è i bauli Eh, ok, il Pandoro bauli E poi, non lo so, è una scatola misteriosa di Natale No, io voglio sentire, voglio sentire Cosa c'è? No, non si può sentire Cosa c'è lì dentro? Cos'è? Sembra, sembra sabbia Sabbia? Non so, però mi sembra qualcosa Ehi, non romperlo È qualcosa di morbido, perché se lo sbatto non fa toc 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 Capito? Sai che cosa è morbido? Eh L'ultimo regalo La coperta di Natale Questa è la coperta di regale Fai bellissima, ma poi è super morbidosa Cioè la voglio io questa coperta Ehi, metti giù la coperta di Natale Ok Se la vuoi devi tirare Però io sono molto curiosa di scoprire che cosa c'è qui dentro Perché la coperta è bellissima Però già sappiamo che cosa c'è Mentre qui non sappiamo che cosa c'è Se vuoi scoprire cosa c'è lì dentro Devi andare a tirare la carta igienica Guarda, c'è Babbo Natale che si fa un selfie Eh, Molly, che ti ho detto che inizi tu? Perché io sono il più bravo No, dobbiamo fare Sasso, carta, forbici Vai Sasso, carta, forbici Sì Eh, no, adesso è venuto Rubare Dai, va bene Comincio te Dai, posso cominciare io Comincio sempre te Va bene Per questa volta puoi cominciare Ok, allora Vediamo i premi Io vorrei subito il premio Quello là giù Quello? Sì Ma ho visto cosa c'è dentro C'è scritto Pandoro Ma cosa? Il premio là giù Io ho indicato la coperta Cioè, volevi quello lì? Vai Vado, eh Vai Oh, sì Prego Ma è proprio Cipone Oh No Sì La coperta di Natale Ma stai scherzando Cioè, al primo tentativo Subito la coperta di Natale No, va bene La coperta di Natale Oh, mio Dio Ma guarda quant'è È super bella È super morbidosa Raby, dove sei? Ma no Ma guarda c'è tutti i cuorecini Ma è troppo bella Me la volevo io questa Evviva la coperta di Natale Guarda che bella Beh, però c'è un aspetto positivo Questa coperta è abbastanza grande Per poterci stare sotto in due Questa coperta sarà solo mia Hai capito Raby? Ma come? Perché ultimamente fa molto freddo E quindi Molly ha bisogno di un pochettino di caldo Allora Adesso tocca alla Raby Quindi vediamo un po' Oggi mi concentro perché voglio vincere uno di questi previ di Natale Fantastici Allora Quello dove vorrei arrivare Sarebbe quello laggiù Quale? Vedete quella scatola laggiù Perché io sono molto curiosa di sapere Questa? Questa scatola? Eh, ho toccato qui Questa scatola qui Dai, ma che puzza Vai Raby Però potrei anche arrivare lì Così mi mangio Meno chiacchiere Più tirare Ok E' una mia Oh Non è vero Non è vero Non c'è niente No aspetta 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 Non fare così Perché lì non avevamo messo niente Ci siamo dimenticati No, no Raby Perché ormai No, no Non c'è niente Non c'è niente La Raby potrà scegliere Ma cosa? Dai puoi ritirare Ok Ti faccio questo Guarda È finito lì Ah che peccato Quindi posso ritirare Oh, si è fermata Il torrone Sì Ma io pensavo che era andato fuori Non vale Invece no Eh sì Buono il torrone Allora ragazzi Sul torrone Beh non si sa Quale scegliere Di solito a Natale Quindi voi di che team siete Torrone morbido O torrone duro Io non lo so Non so quale scegliere Mi piacciono tutti Nel dubbio Li mangiate tutti e due Nel dubbio Li comprate tutte e due Li mangiate tutte e due Ok Sì però quello lo mangio io Perché l'ho vinto io Sì 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 È giusto Dai Il torrone è giusto Non è finito il tuo torrone Ma tu hai già vinto La coperta gigante morbidosa E tocca a me E adesso vincerò Altri premi Lo vedremo Molly Molly Allora io voglio uno di quei Bei panettoni Allora Molly Visto che io non ce la farò mai Tu devi prendere questo premio Perché io voglio assolutamente vedere Che sta da dentro Vai Vado Bello ti premo Palla 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 Ma che Sì S'è invernato Sì 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 Credo È il premio misterioso Il premio misterioso Appriammi appriammi Io sono più curiosa di dare e vedere Che cosa c'è dentro Allora vediamo È una scatola di Natale Bellissima E c'è un babbo Natale Che si fa un selfie Oh mamma mia Share the journey Lo sto prendendo Lo sto prendendo Vi vediamo Siete curiosi Aspetta Aspetta Ma c'è un coso E se fosse lo scherzo del Grinch No spero di no Che cavolo Ok allora Apri Voglio vedere che cosa c'è Ma che cosa Spieca c'è Eh ci sono un sacco Di marchi ingegni Per tenerlo chiuso Un attimo Ecco Oh Ma non si Ma dai Ma non si Un pandoro È un pandoro Guarda qua Quanto zucchero Un pandoro Con lo zucchero Ma e poi non c'è più niente Mi sa che non c'è più niente Ma come non c'è Molli Ok quindi ho vinto un pandoro Con lo zucchero Mi ritengo fortunato Però lo mangeremo insieme Vero mollettino Eh sì insieme Sì Allora Rebi Rimangono i cioccolatini Ippopit Il pandoro Cicciotto Con la cioccolata E i bauli Quale pensi di vincere Ma che stai facendo Ho rivoluzionato il gioco E ho deciso Che si può fare così No 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 Non si può Tu guarda Sì Ecco fatto Ma cosa Ho vinto Ippopit Veramente No 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 Tornare indietro Prego Tornare indietro Ma non vincerò mai niente A questo gioco Stai barando un sacco Non è vero Non lo sto barando Ok Adesso mi devo concentrare Vai Rebi Ma guarda Vorrei Il pandoro Al cioccolato Vai Vediamo se il desiderio Funziona 3 2 1 Piano Oh 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 Non è vero Non è vero No è il Oh È nel mezzo Hai vinto il bauli Non è nel mezzo Il bauli Sì Oh mamma mia Guarda Il mio pandoro Prevenito Sì È gigante Ok però direi che lo apro dopo Perché così tutti sanno che si può mettere lo zucchero dentro E vai di battere il pandoro Ok ci sono ancora dei premi da vincere Allora Molly ti ricordo che se non vinci ippopit Saranno automaticamente delle rete Ma cosa non è vero Sì Ok vado li vinco io eh Vai Guarda Ti prego ti prego Popito Popito Oh Vai Non vale Non vale Non vale così Ok rifaccio Dai Sei pronta Prontissima Fai popit 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 No Beh no Io non ti la metterei così tanto Un pandoro al cioccolato Il pandoro al cioccolato Guarda quanto cizzo Oh non lo voglio anch'io Oh papà mio Mi tuffa d'oro Allora Tecnica alternativa Visto che è il popit Probabilmente non ci arriverò mai Proverò a prendere i cioccolatini Così mi basterà fare così E ci sono Vediamo Secondo me non ce la fai eh Via No Non è vero 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 Non ci credo Venti popit Ma non è possibile Vento tutti i popit Molly Dicelo ciao ai tuoi popit Sì ma questa si chiama fortuna Eh vabbè Fortuna non fortuna Ho vinto E non ho neanche barato Quindi Tutti i popit di Natale Sono Della Rami Me ne puoi regalare uno? Dai farò tutti quelli Te ne ho dato anche uno laggiù Ok dai va bene Solo uno Quale vuoi? Allora Vediamo Scegli bene Perché te ne ho dato solo uno Vorrei questo No 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 Questo Questo Allora Se vuoi ti posso dare Questa renna Perché ce lo doppia Questo? Sì Se tutti quelli che hai Mi dai questo Ma dai Ma non è Ok allora non ti do niente No 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 Ok No vedi Dammi quello Ok tieni Grazie E adesso Il premio Che manca Se lo dividiamo Va bene Però io sono curiosa Di sapere che cosa c'è qui dentro Vuoi aprirlo? Vai aprirlo Vediamo Che cosa c'è che cosa c'è Vediamo un po' Vediamo cosa c'è qui dentro No Molly non ci crederai Fa vedere Vieni qui mi si Guarda Guarda quante cose Guarda Oh mamma mia Ma non ho visto Il Kinder Bueno Il Kinder Bueno Poi ci sono Il Kinder Bueno Uno vino Uno vino Grazie Poi ci sono Altri Kinder Kinder grazie Tutti miei Poi ci sono Altri Kinder Ecco 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 Grazie Ok Che cosa c'è dentro Grazie mille Grazie Rebi Questo mio Mio No no Questi sono Pochi miei E lasciami di uno Non puoi mangiarli tutti Va bene Ti posso lasciare uno di questi Ok Questo Ho come solo uno Allora Io direi Che per questo video È tutto Fateci sapere Se volete Altri video Dove facciamo Rotolare La cartigenica E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao